Allora, buonasera a tutti, siamo qui in via Salvagnoli ad Empoli per fare una misurazione. Come forse saprete abbiamo misurato i parcheggi qui in via Salvagnoli e secondo noi erano più stretti di quello che dovevano essere. Il nostro regolamento urbanistico dice che devono essere 2,50. Ci ha risposto l'amministrazione dicendo che non vale il regolamento che è migliorativo ma vale il codice della strada che comunque dice che i parcheggi devono essere 2,30 metri quelli all'isca di pesce. Adesso siamo qui perché così li misuriamo e vediamo se i 2,30 sono reali oppure sono inventati. Insomma come abbiamo visto i parcheggi in via Salvagnoli sono 2,15-2,10 metri al massimo quindi siamo 30 centimetri oltre 15 centimetri in meno di quello che dovrebbero essere da regolamento da codice della strada e questo comporta il fatto che praticamente come si può vedere tra le macchine lo spazio è minimo, picchiano gli sportelli e praticamente è difficoltoso andare e scendere dalle auto. Comunque vedremo come risponderà l'amministrazione.